Allora, siamo qui di nuovo avanti a Radio Dimensione Suone, però noi veramente invece di suono, giustamente, guarda ragazzi, sono olandese. Allora, I speak English, yes, I do speak English. We better speak in Italian, è meglio che parliamo in italiano. Sì, 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 parliamo in italiano, sennò qui non si capisce più niente. Comunque, invece di Luca Barbarossa, abbiamo preferito il più bello del mondo, cioè diciamo che è tutta un'altra cosa. Allora, vogliamo chiedere, perché invece di anche solo cantanti, vogliamo anche vedere che succede, gli altri ospiti, che cosa pensano di Sanremo e di tutto questo? Well, Sanremo è il Salarafan, c'è molta gente qua. Questa è la seconda volta che vengo qui, io sono arrivato in Italia da poco e il colonnello, molta gente saprà chi è, ha una casa proprio qua giù, quindi è un'occasione in più per venire. E poi, a me piace molto cantare, quindi è un'occasione per trovare amici cantanti, gli amici New Trolls, a cui auguro una buona fortuna. Ah, perché tu canti anche? Sì, sì, canto anche. Mamma mia, questa è una voce da svenire, ragazza, non è solamente che adesso facciamo un bel inquadratore da sotto a sopra, però, cioè, non abbiamo parola. Anche questa bellissima voce da svenire, allora, a questo prossimo anno, che dici, ti vediamo a Sanremo? Ma, adesso è da stabilire, io non voglio cantare in inglese, il colonnello ci picchiamo spesso e volontieri per questa cosa qua e vedremo come chi la dura la vince, vedremo come andrà a finire. Tu che vuoi fare allora, cantare italiano o inglese? Ma, la mia prima lingua è l'inglese, io preferisco cantare in inglese, non snobbo assolutamente l'italiano, però mi sento più... Beh, facciamo così, se un giorno mi vedete da Sanremo, vorrà dire che ha vinto il colonnello. Allora, ragazza, che diciamo? Speriamo che vince il colonnello, eh, che è il nostro Val Tornudo e che lui, prossimo anno, lo possiamo vedere come cantante qui a Sanremo. Allora, un salutino, vuoi dire qualche cosa al pubblico del bla bla bla? Allora, voglio dire goodbye a tutti i ragazzi e voglio dire che questa bella bella è vicino a me, e voi restate in contatto, perché io sarò tornare in inglese a cantare. Sei lontano? Ciao! Ciao!